Il Teatro Altro Spazio è la sede del MIP, Musical in Progress, del Centro Alta Formazione Teatro di Roma. È un corso di perfezionamento per performer ed io ne avrò la direzione da ottobre 2017. Cosa dovete fare per diventare il performer del futuro? Non dovete fare altro che andare sulla pagina Facebook del MIP, Musical in Progress, oppure sul sito Centro Alta Formazione Teatro e scaricarvi il bando di audizione. Vi aspetto numerosissimi.